ciao a tutti allora volevo raccontare che ieri sera dopo lavoro sono passata a comprare una matita che avevo finito che sto per finire praticamente che uso per sopracciglia che è questa in profumaria poi ho preso anche questo spruzzino qua è un sgrassatore universale di rio e poi ho comprato anche questo qua inox e marmo bianco poi c'è scritto che questo qua va bene per i fornelli, forni, tegamini, frigo, gelatiere, davanzale, scale, terrazze, persiane, tapparelle, serramenti, barche, banchi di bar, macellerie, pescherie cioè praticamente va bene quasi su tutto allora sgrassatore ho pagato 1,79 euro questo qua e questo invece costa 2,99 euro lo proviamo oggi perché oggi voglio aprire la cucina perché ha tutto sotto sopra poi mentre stavo tornando poi dopo la profumeria mentre stavo tornando a casa ho visto in vetrina questa vassoia qua adesso ve la faccio vedere che mi piaceva tanto ho detto no adesso mi ho detto che mi piaceva tanto questo qua e penso di mettere in cucina questo qua e poi ho preso anche un portorottolo allora la soia costava 10 euro un negozio tipo da un euro non è tutta un euro giustamente però e portarottolo invece costa 6 euro ho preso anche il portorottolo perché perché il mio quello vedete qua si è crepato e niente oggi penso di fare la pulizia in cucina adesso vi faccio vedere che è tutto sotto sopra praticamente ieri ho cucinato devo pulire anche il forno devo pulire un po tutto e poi voglio passare con un vaporetto anche sulle piastrelle oggi e niente incomincio ciao ecco qua guardate che casino che ho fatto vabbè qua stamattina ho cucinato niente adesso bisogna mettere tutto a posto qua la spesa che vi ho fatto vedere devo pulire anche il forno ecco in queste condizioni qua il mio forno un tanto è ugualto tutto Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Per finire che c'è rimasto pochissimo, c'è rimasto giusto così, così lo finiamo. Nel frattempo ho fatto partire anche per la macchina, poi vado avanti con un altro lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.